ciao allora stasera gioco la juve una grande partita speriamo questo video che farò stasera lo porterò al mio compleanno compi 18 anni e speriamo che la juve riesca a vincere e poi se riusciamo a vincere stasera penso che lo scudetto ce l'abbiamo quasi in tasca speriamo molto speriamo bene forza juve e ciao